Open Gangnam Style Gangnam Style Questo programma è offerto da La Cappannina, via di Barbiano 34 Bologna Telefono 392 71 599 46 Altero, via Indipendenza 33 Telefono 051 23 47 58 In via Ugo Bassi 10, telefono 051 22 66 12 Componendo in via Einstein 53 a San Giovanni in Persiceto Bologna Telefono 051 681 09 90 La Lucciola, via Bondanello 30 a Castel Maggiore Telefono 051 71 10 13 Un saluto agli amici qui Bologna TV E' un'intervista che avrebbero voluto fare tutti ma mi troppo non ce l'ho io in mano Il padre è un'intervista che fa un'intervista che fanno passato Il padre è un'intervista che si lavora la mia Il padre è un'intervista che si lavora la mia Quanto in alto, quanto in alto! Non deve parlare! C'è la camera! No, ah oh! Non lo capisci! C'è la camera da riscaldare! Oh! Oh! E' un leggero con i maschetti! Oh, oh! Ma non si scatoli con il pochetto! E' un leggero con la piccola vita! Si vedi qua, è lo su! E' un leggero con il pochetto! E' un leggero con il pochetto! Ma lei non si vede nella piccola... C'è la mia daire! E' un leggero con il pochetto! E' un leggero! E' un leggero! E' un leggero con il pochetto! E' un leggero con il pochetto! La prima volta perché è il suo debutto! Il capitano di Lorenzo! L'applauso! C'è l'applauso! Mamma mia, ragazzi! E' qualcosa che non funziona! Quali sostegno? L'applauso! C'è l'applauso! Sempre pochi uomini! Fai brutto! Il carotero! Il carotero c'è dopo il telegiornale! Subito dopo il telegiornale alle 3.21! Potete vedere il carotero! Oggi sono andate! E' un pochetto! Il carotero! Oggi è un piano! E' un pochetto! Un applauso! Grazie a tutti 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 Planet Express 2010 è in via Manfredonia 52-28 a Foggia telefono 348-094-7522 Un saluto a qui Bologna.tv Grazie a tutti 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 Grazie a tutti